Giorgio Panariello, età, altezza, moglie, figli e vita privata. Giorgio Panariello è sposato, età, altezza, moglie, figli e tutto quello che c'è da sapere sulla vita privata del comico. Giorgio Panariello, alto 1,73 m, è nato a Firenze il 30 settembre 1960. Oggi lo showman italiano è per i 57 anni e, dalla sua parte, può, vantare una lunga carriera come comico, attore, regista e conduttore, il suo percorso nel mondo dell'intrattenimento comincia presto, negli anni 80, quando Giorgio inizia a lavorare come imitatore a Radio Forte dei Marmi. In quegli anni Panariello porta in Radio uno dei suoi personaggi più riusciti, Renato Zero, conquistando tutti. Il vero successo per il comico arriva per, quando inizia a lavorare insieme all'amico e collega Carlo Corti, nel 1994. Su Teleregione e Toscana, con il loro primo programma, i due riescono a raggiungere subito una grossa fetta di pubblico, tant'è che per entrambi, a partire da quel momento, le proposte di lavorare in televisione iniziarono ad aumentare sempre di più, dopo il successo in televisione Panariello decide allora, negli anni 90, di provare a farsi strada anche nel cinema. Giorgio Panariello dalla TV al cinema, gli anni del successo e la carriera da attore. Le prime pellicole lo vedono protagoniste insieme a grandi volti noti dello spettacolo, come Antonio Albanese, Leonardo Pieraccioni ed il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Una volta raggiunta la popolarità, col tempo le proposte lavorative per lo showman fiorentino iniziarono a fiocare e, durante la sua carriera, diversi sono stati i progetti abbracciati dallo stesso con entusiasmo, dalla TV alla radio, passando persino dal teatro, Panariello non è mai rimasto fermo. A differenza della sua vita professionale, la vita sentimentale di Giorgio Panariello non è mai stata movimentata allo stesso modo, l'attore infatti non si è mai sposato e non ha mai messo su famiglia, anche se diverse sono state le frequentazioni ritenute importanti dallo stesso. Non ha figlie e, al momento, come dichiarato diverso tempo fa, pare essere rimasto dell'idea di non volerli avere Giorgio Panariello in TV per Natale, due serate di show in Rai con lo spettacolo Panariello sotto l'albero l'attore Toscano intratterrà il pubblico di Rai 1 per 2 sere consecutive. Stasera e domani, infatti, a partire dalle 21 e 25, il suo show natalizio sarà trasmesso in prima serata, a condurre con lui ci sarà anche Diana del Bufalo, per una serata ricca di ospiti e sorprese con un cast pensato appositamente per divertire e intrattenere il pubblico a casa. Grazie